Allora, io sono Giulia Uva e sono partner dello studio Artiglia delle Verdure, lo studio di architettura che ha fatto da consulente per gli arredi, gli interni e tutte le finiture degli spazi abitativi. Quello che abbiamo fatto e su cui ci siamo concentrati è sicuramente tutto l'aspetto emotivo delle persone che abiteranno questi spazi e quindi abbiamo cercato di lavorare pensando proprio al loro benessere. Abbiamo proposto degli arredi e degli spazi che potessero ricreare degli ambienti familiari, degli ambienti confortevoli e soprattutto piacevoli, insomma, che si distaccassero un po' dagli ambienti ospedalieri. Questi spazi siano per le persone che lo abitano, degli spazi dove possono passare anche dei momenti lieti, piacevoli e che possano comunque essere un bel ricordo per le persone che hanno passato qui tanto tempo.